Cari saluti a tutti e benvenuti alle previsioni METE. Per martedì 13 dicembre la perturbazione atlantica sfilerà verso sud-est, liberando i cieli della maggior parte del territorio. Ancora addensamenti su regioni adriatiche e sud, con rovesci diffusi e neve in appennino. Venti più freschi da ovest-nord-ovest. Al nord residui addensamenti tra Basso Veneto e Romagna, fino al primo pomeriggio, con eventuali brevi piovaschi, seguiti da schiarite. Nubi sparse innocue sul resto del territorio, con ampi spazi soleggiati. Temperature minime in netta diminuzione. Al centro, persistenza di una certa nuvolosità, lungo le regioni adriatiche, ma con rischio di pioggia elevato, solo al mattino. Nubi residue nel pomeriggio, ma con ulteriore miglioramento, fino a cieli poco nuvolosi ovunque, in serata. Altrove stabile e solleggiato per tutta la giornata, con venti deboli moderati da ovest e clima più fresco al mattino. Al sud, instabile con rovesci lungo le coste tirreniche di Campania, Calabria e Sicilia, probabili anche in Puglia. Spruzzate di neve in appennino oltre i 1300 metri, prevalenti schiarite sull'area ionica. Nella notte, residue piogge tra bassa Calabria e Sicilia tirrenica. Temperature in calo.